Il coccasone del Passo di Coladoggia, ormai purtroppo chiuso. Un ingorgo stradale e purtroppo al giorno d'oggi girano troppe macchine di conseguenza e camminano in mezzo alla strada, non sanno il codice. C'è ancora, ormai è chiuso, l'albergo Pratipiani, ecco che sta apparendo, avevano le loro vacche, avevano i loro articelli, eccolo lì, eccolo qua. Ecco, dalla parte di qua si vede il prato, si vede tutti i giochi, è una meraviglia. Anche Malzola, il famoso calciatore dell'Inter, veniva qua.